effettivamente mettere la brocca del tè caldo vicino al tizzone ardente per mantenere ben caldo il tè non è un'operazione comoda pertanto ho deciso di acquistare la brocca termica attualmente sul volantino Lidl a circa 10 euro per testarla faccio il solito tè acquistata all'Eurospin, un po' di limone e la solita acqua bollente del bollitore a prima vista sembra ben costruito con materiali di buona qualità acciaio inox esterno, vetro interno, vaniglione in plastica e tappo con erogatore nota negativa è che non si può lavare in lavastoviglie ma d'altronde perché lavarla? messo il tutto nella caraffa dopo 12 ore vediamo se il tè è ancora bello fumante declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente offorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento aspetto i vostri commenti, il mi piace e le iscrizioni al canale a presto, grazie per la visione, ciao grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.